Siamo, diciamo, che si è chiusa la fase della gara Ponte e partirà tra oggi e lunedì anche la gara generale che verrà coinvolte tutte tra le case di riposo e avremo un solo interlocutore, ci comporterà anche lì dei risparmi. Per il personale abbiamo previsto, ma giustamente, che loro erano inquadrate come osa, in realtà da domani, da domani quando è trovata una nuova ditta, saranno inquadrati come osse, che non è un gioco di parola, in realtà loro sanno benissimo che hanno preso meno soldi fino ad oggi, da domani avranno una retribuzione maggiore dovuto al riconoscimento di quello che è una professionalità. Questo noi lo facciamo perché riteniamo che chi lavori debba essere sereno e tranquillo, perché poi questo è un servizio alla persona che spesso e volentieri ha bisogno che chi dopo lo deve prestare sia sereno. Quindi la speranza è quello e noi riteniamo che migliorerà sicuramente anche il servizio, ma non legato al fatto economico, ma al fatto di avere una tranquillità anche non solo su quello che è la retribuzione, ma sulla puntualità rispetto alla retribuzione. Si va invece alle vie legali contro il Comune di Teron? Purtroppo noi dall'ultima conferenza stampa abbiamo subito semplicemente attacchi dal Comune, dove non abbiamo voluto rispondere, abbiamo ulteriormente aspettato sul discorso del pignoramento che c'era stato fatto, delle somme che la Regione doveva erogare, che ad oggi non è erogato, perché il Comune non ha mai ritirato quel pignoramento, ma è stato sbloccato lo stesso per questioni legali che noi abbiamo ovviamente opposto e la settimana prossima dovrebbe essere risolto tutto. Ovviamente questo ha comportato un ritardo anche nel rispetto degli impegni presi con alcuni operatori, con alcuni fornitori, purtroppo se non c'è una soluzione a livello di persone serene e tranquille è ovvio che il lavoro passa agli avvocati.